Ciao a tutti, allora questa sera parliamo di sogni lucidi, che cosa sono, ciao Katia, che cosa sono, a cosa servono e come si verificano. Allora, c'è da dire che sui sogni lucidi si discute e si parla molto su che cosa sono, quando è o non è un sogno lucido. Ora, il sogno lucido non ha bisogno di essere, diciamo, interpretato nel senso, se ci si chiede se è stato un sogno lucido o no, è già no, perché sul sogno lucido non ci si sbaglia. Poiché il sogno lucido avviene con la percezione di una realtà iperrealistica, con colori molto vividi e non ci si può sbagliare a riguardo perché lo stiamo veramente vivendo. Il sogno lucido è la consapevolezza del sogno. Ora, molti potranno dire di essersi ricordati che stavano sognando e quindi di poter dire ma io sapevo che stavo sognando, quindi era un sogno lucido. Per questo motivo, diciamo, è stata creata un po' da tutti quelli che hanno trattato l'argomento una scala, insomma, di livello di lucidità. Ciao Valérie, ciao Jun, vediamo se vedo i vostri messaggi. No, non vedo tutti. Allora, torniamo ai nostri quattro stadi, per farne un esempio, di lucidità. Allora, c'è il sogno prelucido, dove ci accorgiamo che stiamo sognando, però poi ci facciamo trascinare dal sogno e quindi ridiventa un sogno normale. Ecco che abbiamo avuto un principio di lucidità, ma è durato pochi attimi. Poi c'è il sogno semilucido. Nel sogno semilucido siamo un passo avanti perché ci rendiamo conto che possiamo pensare, possiamo ragionare nel sogno. Anche qui ci facciamo delle domande, ci diamo delle risposte, facciamo dei confronti, però non andiamo oltre. Nel terzo caso di un sogno lucido, vero, abbiamo la consapevolezza del sogno e abbiamo anche la possibilità, la facoltà e la utilizziamo per cambiare la scena del sogno, per interagire con i personaggi, per scegliere se vogliamo spiccare il volo, andare da qualche parte a trovare qualcuno, interagire con lui, eccetera. Questo è un sogno lucido, dove noi siamo direttori di scena e scegliere che paesaggi creare e che cosa sperimentare in questo sogno lucido. Attraversare una porta, andare in volo sulle catene dell'Himalaya, in Australia, eccetera. C'è un altro stadio che l'ha definito Robert Wagoner, che è un esperto di sogni lucidi, col quale ho fatto un corso molto bravo, lui sono anni che studia e fa sogni lucidi, e dice che il quarto stadio è l'iperlucidità, la superlucidità, dove non solo interagiamo con il sogno, ma riusciamo a mettere da parte il nostro sé e anche la mente e quindi arrivare ad un grado di consapevolezza che va oltre la nostra mente, non totalmente, ma va oltre la nostra mente. Perché io vi ricordo che il sogno lucido è un sogno mentale, non è un viaggio in altre dimensioni. Il sogno lucido ci permette di comprendere più che interpretare il sogno dentro al sogno. Quindi quando ci svegliamo, non possiamo interpretare il sogno perché il messaggio diventa chiaro. Il messaggio lo riceviamo al momento, chiediamo delucidazione al momento e lo comprendiamo al momento. Questo è il vantaggio del sogno lucido. Con il sogno lucido non mettiamo da parte l'inconscio o non bacchettiamo l'inconscio. Noi facciamo amicizia con noi stessi, impariamo a conoscerci meglio. C'è da dire che la lucidità non è uno stato di onnipotenza. In un sogno lucido noi possiamo sì gestire la realtà, cambiare paesaggio o cercare le persone che vogliamo vedere. Però quello che è attorno a noi, se noi decidiamo di volare, il cielo che sta sopra di noi e il paesaggio che sta sotto di noi è creato dall'inconscio. Mi piace a questo riguardo, per farvi capire, mi piace l'espressione sempre di Robert Wagoner che dice che il marinaio non comanda il mare come il sognatore non comanda il sogno. Quindi noi possiamo sì navigare nel mare, ma il mare non farà mai quello che diciamo noi. In questo senso è da interpretare il sogno lucido, non è l'onnipotenza, non è un poter fare tutto al 100%. il sogno lucido è un poter dare un'occhiata molto molto più allargata all'interno di noi stessi e della nostra mente, senza i condizionamenti che viviamo durante la veglia. Quindi possiamo fare domande dirette, possiamo trovare soluzioni a problemi. Quello che fanno i nostri sogni ci viene presentato intanto attraverso un sogno che noi prima dobbiamo ricordare e poi dobbiamo andare ad analizzare. In un sogno lucido noi abbiamo tutto qui al momento e quindi non serve analizzare, non serve niente, le domande le poniamo al momento se ci sono e tutto ci resta chiaro. Infatti da un sogno lucido ci svegliamo che sappiamo, abbiamo capito, non serve nemmeno scriverlo molto spesso perché è già tutto chiaro. Allora. se avete delle domande portate pazienza perché non le vedo ma vi rispondo dopo. Quindi alcuni di questi studiosi dei sogni lucidi e ce ne sono parecchi, uno di questi è anche Charlie Morley. Charlie Morley lui ha sempre fatto i sogni lucidi volontari, volontari fin da quando era adolescente. Quindi gli capitavano e lui ne godeva come meglio credeva, quindi non in modo molto ortodosso. Comunque poi ha fatto il suo percorso di crescita, ha conosciuto dei lama tibetani, è entrato più in profondità nello studio del sogno, nello specifico a livello della religione buddista e ha modificato il suo modo di sognare. Studiandolo, lui cercava di raggiungere questa iperlucidità che aveva solo spontaneamente. Allora si sforzava di raggiungere quello stato che è più spirituale, che va un po' oltre il sé, anche se la mente non la si può, diciamo, togliere del tutto in un sogno lucido, non si arriva a una consapevolezza di sé e dell'universo totale. Se ne ha un assaggio, ci si dimentica, ci si può dimenticare di ciò che siamo perché ci sentiamo uno con tutto l'universo ma siamo ancora lontani da un'illuminazione, se questo si può dire. Quindi lui cosa ha fatto? Ha smesso di cercare di avere il controllo del sogno lucido e quando lui ha smesso di cercare il controllo la lucidità aumentava da sola. Quindi diciamo un po' come lavorare insieme. Il sognatore lavora insieme con il sogno, con l'inconscio. Quindi ognuno fa la sua parte. Si interagisce l'uno con l'altro. Lì c'è un connubio perfetto che ci permette di avere accesso a una consapevolezza molto molto più grande. Molto molto più grande. Ora, come si raggiunge la lucidità nel sogno? La lucidità nel sogno si può raggiungere... C'è chi è portato e la raggiunge volontariamente... Cioè, scusate, involontariamente mentre dorme mentre altri seguono delle tecniche. C'è da dire che, come dice sempre Wagoner, il sogno lucido non va imparato ma bisogna ricordarsi come si fa. Perché tutti noi da piccoli abbiamo avuto sogni lucidi, abbiamo fatto sogni lucidi. Poi, con l'evoluzione, la crescita, i problemi, il lavoro e gli impegni ci siamo dimenticati che cos'erano e come si fanno. Quindi, come dice Wagoner, basta ricordare come si fa. Ci sono diverse tecniche. Ci sono anche diversi libri che insegnano queste tecniche. Io ne ho qualcuno da farvi vedere. Allora, uno è, secondo me, la Bibbia del sognatore lucido che però c'è solo in inglese. Non c'è in italiano, non è mai stato tradotto. Per chi conosce l'inglese, è veramente un libro completo, completo sui sogni lucidi. Lui è Stephen Laberge, lavora ancora, è un professore eccentrico che si presenta in infradito, pantaloni corti e camicetta hawaiana, ai suoi corsi. Lui vive all'Hawaii e tiene i corsi all'Hawaii adesso. Lui, diciamo, è stato uno dei precursori che si è dato da fare, ha fondato una scuola della lucidità, eccetera, eccetera. Questo è il libro, diciamo, più completo, ma ce ne sono molti altri. Un altro è il ragazzo, dico ragazzo perché non credo che arrivi a 50 anni, Charlie, che ha scritto molti libri, come questo e molti altri. Lui descrive molto bene tutte le tecniche per, descrive che cos'è il sogno lucido, parte da tutte le premesse. Lui consiglia anche, lui ha imparato ad accedere alla lucidità anche attraverso delle tecniche di meditazione buddiste che gli hanno insegnato gli yogi tibetani. La consapevolezza del sogno si raggiunge quando si ha anche una consapevolezza nella veglia. Ciò significa attenzione a tutto quello che ci circonda. Per esempio, in questa meditazione si cerca di prestare attenzione a ogni fase del sonno. Quindi, si medita praticamente per tutto un ciclo del sonno cercando di sentirla, percepirlo, questo ciclo del sonno, fino a conoscerne il funzionamento. quindi queste sono tecniche insomma particolari, ma ce ne sono, ce ne sono di più semplici. La più semplice di tutte è la, diciamo, inventata o la troviamo scritta nei libri di Carlos Castaneda ed è una tecnica che viene portata avanti tutt'ora da tutti quanti gli studiosi e gli insegnanti e praticanti di sogno lucido. Questa tecnica consiste nel cercare le proprie mani durante il sonno. Quindi, ci si allena durante il giorno a guardarsi ogni tanto le mani e chiedersi se si sta sognando e poi si dedicano cinque o dieci minuti prima di andare a dormire guardandosi guardandosi sempre le mani e dirci quando vedrò le mie mani quando vedo le mie mani nel sogno saprò che sto sognando. Questa è la prima e più semplice di tutte. come sempre ci vuole un intento inflessibile molto forte bisogna seguire con attenzione queste regole e poi possiamo arrivare anche a vedere dei risultati. La costanza è quello che ci premia in questo caso come anche in tutte le altre cose. poi il dottor Stephen Laberge ha messo a punto molte molte altre regole molte altre insomma tecniche per ottenere il sogno lucido e hanno diversi nomi ce ne sono cinque o sei molto valide che consistono nel fare dei test di realtà io mi ricordo quando quando le ho provate mi mettevo praticamente a a contare tutte le biciclette che vedevo in giro durante il giorno oppure un giorno contavo le biciclette un giorno contavo i semafori rossi un altro giorno contavo quando sentivo squillare un telefono e ogni volta mi chiedevo se stavo sognando poi nel sogno quando avviene una di queste cose o vedo una bicicletta oppure sento un telefono che squilla io mi ricordo che devo portare la mia attenzione su questa cosa che sta accadendo e chiedermi se sto sognando e ovviamente ce lo chiediamo anche nel sogno come io ho sempre detto il sogno parla sempre dell'agenda del giorno precedente quindi quello che è successo il giorno precedente cioè il giorno prima di andare a dormire quello sarà l'argomento del sogno quindi è ovvio o è probabile molto probabile che nel mio caso sognassi le biciclette oppure le persone che telefona poi contavo contavo anche quando vedevo un cane o sentivo un cane abbagliare ci sono perfino delle app che si possono scaricare che ci suonano dei campanellini quando li sentiamo dobbiamo chiederci se stiamo sognando eccetera ce ne sono moltissime di tecniche un attimo che controllo controllo i messaggi non ne vedo buonasera Chiara Remo allora bisogna come mi piace dire questo non mi ricordo in che libro l'ho letto per trovare la lucidità nel sogno dobbiamo un po' giocare al tenente Colombo le persone di una certa età si ricorderanno chi era il tenente Colombo un investigatore privato che ha fatto una lunga serie di telefilm e cercava ogni improbabile indizio per scovare il malfattore di turno e noi dobbiamo fare lo stesso se vogliamo essere consapevoli nel sogno dobbiamo cercare le stranezze e in questo caso le mani dobbiamo cercare le cose che ci rendono consapevoli che stiamo sognando questo è alla fine l'intento dei test di realtà i test di realtà servono a fra virgolette svegliarci a farci capire che che stiamo sognando se sappiamo che stiamo sognando allora possiamo entrare dentro il sogno e dirigerlo la prima cosa che può accadere quando noi per esempio riusciamo a vederci le mani diciamo ma allora allora sto sognando sto facendo un sogno lucido paff sparisce tutto perché l'emozione è troppo forte e ci svegliamo è un po' la stessa cosa che accade quando facciamo un incubo quando ci insegue un malvivente un malintenzionato che ci vuole uccidere eccetera ci segue noi dalla paura ci svegliamo lo stesso accade con un'emozione di gioia è talmente forte che ci siamo riusciti che ci svegliamo ora quando accade non dobbiamo demordere anzi sappiamo che è accaduto e che potrà accadere ancora ed è normale è normalissimo succede a tutti quindi prendere un po' di confidenza con questa emozione e imparare a gestirla ecco che se noi improvvisamente vediamo una bicicletta e ci chiediamo se stiamo sognando oppure riusciamo a vederci le mani cosa facciamo per trattenere l'emozione cerchiamo di osservare qualcosa di noioso fissiamo il pavimento oppure ci guardiamo ancora le mani finché ci facciamo l'abitudine e cerchiamo di gestire questa emozione perché se rimane forte succede di nuovo che che ci svegliamo perché entrare in un sogno lucido non è difficile difficile è mantenere mantenere questa questa fase di lucidità del sogno possiamo perderla in un attimo come nei sogni prelucidi o semilucidi e possiamo però imparare a a gestirla quindi quando ci succede di accorgerci che siamo lucidi dobbiamo dobbiamo gestire l'emozione questo come si può fare si può fare pensandoci prima quando noi sappiamo di avere l'intento di fare un sogno lucido oppure se è accaduto per caso che noi ci siamo visti le mani ci è presa l'emozione e ci siamo svegliati anche se non avevamo nessuna intenzione di fare un sogno lucido ci riproviamo ci riproviamo però con l'intento di ricordarci che quando saremo lucidi dobbiamo avere subito un piano e sapere che cosa fare per non perdere la lucidità quindi guardare il fisso il pavimento finché non ci passa tutta questa emozione poi cominciare piano piano a guardarci intorno ogni tanto mantenere questa lucidità ritornando a guardarci le mani cerchiamo di cominciare a gestire questo sogno è molto molto importante avere un intento quando cerchiamo il sogno lucido quindi non dobbiamo farci prendere alla sprovvista e dobbiamo gestirlo dobbiamo gestirlo quindi senza un intento possiamo arrivare ad essere consapevoli di sognare ma poi il sogno ritorna ad essere un sogno normale un sogno normale quindi ecco queste sono le cose da fare quando vediamo scusate se ci sono perché forse sul telefono li vedo no non li vedo queste sono le cose che ci aiutano a mantenere la lucidità nel nel sogno quindi il sogno lucido è veramente un corso di autoconsapevolezza attraverso un sogno lucido noi possiamo conoscerci possiamo trovare vedere delle persone dei personaggi nel sogno e possiamo fare loro delle domande possiamo per esempio chiedere anche ad uno sconosciuto faccio un esempio sempre che ho letto sul libro che vi ho fatto vedere prima di Charlie dove lui si trovava in un sogno lucido ed era praticamente in una in una discoteca lui era molto indeciso sul buonasera Monica oh vedo i messaggi lui era molto indeciso su come portare avanti il suo lavoro e non sapeva se lasciarne uno per iniziarne un altro eccetera eccetera allora visto questo gruppo di ragazzini che erano seduti su su un divanetto e stavano bevendo un drink ecco nell'esempio questo era un sogno lucido ma lui non ci ha messo questi ragazzini lui è entrato in discoteca quindi i personaggi sono stati messi lì ad hoc a suo vantaggio dall'inconscio in questo caso lui allora è andato da questi ragazzini e ha chiesto secondo loro che cosa doveva fare allora il ragazzino alla maniera molto giovanile gli ha detto che cosa doveva fare e lui ha capito e lui ha capito ha capito anche che aveva ragione quindi possiamo interagire in questo modo con il sogno senza fare un'incubazione del sogno o dover interpretare un sogno mettendoci mezz'ora tre quarti d'ora prima di capire poi avere dubbi se abbiamo interpretato bene o meno il sogno lucido è immediata l'interpretazione e possiamo trovare risposte a tutte le nostre domande un altro esempio è un allievo di Robert Wagoner che è molto molto giovane 22-23 anni che diceva che lui faceva i sogni lucidi però in questi sogni lucidi lui faceva quello che voleva ovviamente lui andava con le ragazze perché si può fare anche questo ovviamente nel sogno lucido lui ogni volta incontrava delle nuove ragazze però a un certo punto ha cominciato ad esserci anche sua mamma nel sogno lucido in un sogno lucido se tu dici a una figura che non ti piace un mostro o qualcosa vai via di solito il sogno obbedisce e sparisce ma la mamma non spariva allora come dicevo prima il capitano il marinaio e il mare l'inconscio la faceva restare lì sua mamma probabilmente perché lui aveva sapeva bene perché era lì sua mamma lui infatti ha capito che il suo pensiero se mi vedesse mia mamma era talmente forte che si presentava nel sogno lucido in questo senso diciamo i messaggi sono sono sempre chiari e sono disponibili soprattutto ecco vediamo quindi con con il sogno lucido abbiamo tutto un programma da da svolgere per poter imparare ad ottenerlo quindi ci sono delle tecniche come la wake back to bed che sarebbe ci svegliamo di notte e poi torniamo a letto consiste nel svegliarsi ovviamente c'è tutta una preparazione nei giorni precedenti di studio su testi dei sogni lucidi come quelli che vi ho fatto vedere prima e poi una rilettura di queste tecniche prima di andare a dormire poi ci si punta una sveglia si cerca di svegliarsi in una fase precisa del sonno dove sappiamo che abbiamo finito la fase rem ci puntiamo una sveglia ci svegliamo ci alziamo rileggiamo la tecnica del sogno lucido beviamo qualcosa magari facciamo meditazione che aiuta anche questo e poi torniamo a letto cercando di entrare dentro il sogno che stavamo facendo prima ovvio ovvio non l'ho detto prima però per fare i sogni lucidi è indispensabile ricordare i sogni non solo ricordare i sogni ma anche tenere un diario dei sogni perché per fare un sogno lucido ci vuole ci vuole l'ingrediente principale che è il sogno quindi se non li ricordiamo non è un problema si può imparare a ricordare i sogni basta leggere qualcosa sull'argomento basta dire a noi stessi che vogliamo ricordare i sogni che stanotte ricorderemo i sogni e questo avviene quindi quando abbiamo preso questa abitudine poi possiamo anche lavorare sul sogno lucido vedo un messaggio di Roberta ho incontrato mio padre defunto che mi ha detto sorridendo di non essere angosciata a distanza di tempo ricordo perfettamente la scena posso definirlo un sogno lucido io credo Roberta che questi siano dei sogni messaggio siano dei messaggi che effettivamente ci vengono dai dal defunto che vuole confermare che sta bene che è vivo che non gli manca niente e che non dobbiamo preoccuparci per loro succede questo quando magari noi stiamo intensamente pensando pensando alla persona che se n'è andata piangiamo ci disperiamo oppure non ce li togliamo dalla testa e quindi questi sono messaggi che ci vengono dall'aldilà questo questo però in base alla percezione che ognuno ha di questo tipo di sogni perché può darsi che sia anche una consolazione un sogno consolatorio che crea il nostro inconscio per non farci soffrire perché magari stiamo soffrendo tanto se invece siamo sicuri che la persona era il defunto e che è venuto per noi allora certamente è così la percezione è la nostra nessuno può giudicare mettere etichette ai sogni noi cerchiamo di dare dei nomi a queste cose che succedono ma come si fa a dare un nome ad una percezione a qualcosa che non è fisica e quindi io credo che ci voglia tutto il rispetto per la percezione del sognatore o di chi fa l'esperienza ecco quindi una definizione in questo caso non serve la diamo noi io mi ricordo che una volta ho avuto un'esperienza e questa esperienza andava collocata in un certo in una certa dimensione allora io ho raccontato questa mia esperienza bellissima fra l'altro dove ho rivisto una persona che è stata molto importante per me una specie di maestro ero così felice e mi è stato detto ma come mai l'hai trovata lì e non di là perché il suo posto sarebbe di là allora io ho risposto non lo so e nemmeno mi interessa mi è interessata l'esperienza è stata bellissima non mi interessa collocarla ecco questo questa è una cosa secondo me molto importante perché siamo tutti diversi e tutti abbiamo dei vissuti delle esperienze dei ricordi e tutti siamo unici insomma e il nostro modo di percepire è unico anch'esso e quindi nessuno può dire che cosa abbiamo percepito io personalmente ho studiato i sogni anche l'analisi del sogno in psicologia io credo che Freud sia stato bravissimo precursore ha capito delle grandi cose lui era il primo ad avere dei grossi problemi dovuti all'infanzia e l'ha anche ammesso l'ha anche ammesso e quindi ha fatto una ricerca a livello personale lui ha capito che questo andava bene per se stesso e pensa che possa andare bene per tutti poi ovviamente c'è stata un'evoluzione lui rimane un grande perché veramente ha gettato le basi anche in riferimento ai sogni però era sempre la percezione di un essere umano e ognuno ognuno ha la sua può andare bene per lui può non andare bene per me per dire che non si può parlare a livello scientifico di sogni non c'è niente nei sogni potrei sbagliare magari sono stati fatti passi avanti ma non andiamo oltre alla certezza dei cicli di sonno della fase REM e di tutte le altre quattro fasi precedenti anzi si stanno rivedendo ulteriormente e si sta iniziando a pensare che non sogniamo soltanto nella fase REM ma anche in altre fasi del sonno dove prima si diceva che non si sognava quindi è un mondo ancora molto 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 sconosciuto tanto sconosciuto che al di là di qualche libero pensatore o professore come come Steven Laberge e come molti che ci stanno ancora lavorando non c'è tanta voglia di indagare su questo su questo in questo settore ci sono persone che ancora ritengono i sogni delle banalità ritengono i sogni causa di qualcosa in psicologia e quindi quello che ha iniziato a fare la psicologia con i sogni è cercare di capire la causa del disagio quindi io ho studiato queste cose e mi veniva la pelle d'oca quando leggevo queste cose qua però alla fine è la nascita del sogno se non ci fosse stata questa fra virgolette malattia non avremmo indagato sul sogno sul sogno e su tutti i suoi i suoi disagi insomma come li chiamavano ecco sono stati fatti passi da gigante e siamo arrivati a poter parlare al giorno d'oggi di sogno lucido senza che nessuno gli si rizzino i capelli parliamo di viaggi astrali parliamo di esperienze trascendentali in meditazione c'è un risveglio generale in questo senso quindi sono ben felice che la gente abbia piacere di riprendere in mano anche i sogni perché sono una risorsa una risorsa per noi in qualunque forma si presentino in qualunque forma si presentino si è tornati tanto anche a meditare una volta se dicevi a qualcuno che meditavi ti guardavano anche male ora io ho una certa età ma fino a 20-30 anni fa non si poteva nemmeno dire che andavi dallo psicologo quindi sono stati fatti vi assicuro enormi passi da gigante e i sogni hanno preso anche loro il loro posto il loro posto di diritto e parlare di sogni lucidi non è più un'eresia anzi si iniziano a trovare anche molti altri libri a tradurre molti altri libri Charlie ve lo faccio rivedere ha scritto non solo questo ha scritto molti molti libri sui sogni lui ve lo cito perché è il più accessibile lo trovate su Amazon lo trovate anche in libreria mentre altri libri non si scrivono più sono libri degli anni 70 come quello che vi faccio rivedere anche questo di Stephen Laberge questo credo che sia un libro forse del 1975 e in italiano ne era stato tradotto solo uno tanti anni fa che non esiste più ci sono molti altri libri che però in italiano si fanno fatica a trovare Charlie Murray è il più accessibile ripeto e lui spiega bene tutte queste tecniche allora io ero rimasta prima di perdermi in questo discorso ero rimasta alla tecnica wake back to bed quindi svegliati e torna a letto ci sono anche altre tecniche che consistono nel sempre con una preparazione antecedente cioè leggere qualcosa sui sogni guardare anche dei film ci sono molti bei film sui sogni c'è il meraviglioso mondo di Walter Mitty che è un sognatore ad occhi aperti c'è waking life che parla proprio di sogni lucidi è un film di animazione molto molto bello poi vi consiglio proprio di sogni lucidi e per chi non ha tempo e voglia di impegnarsi magari proprio se decidete di svegliarvi di notte prendete il telefono e cercate poet Anderson è un cortometraggio proprio un video fatto benissimo fra l'altro con bei colori e tutto che spiega il funzionamento di un sogno lucido il funzionamento è l'esempio di un un sognatore lucido che sogna e tutto quello che fa nel sogno molto molto bello poet Anderson Anderson molto molto bello e durerà credo 15 minuti quindi è molto è molto anche d'impatto è bello a me è piaciuto tantissimo non sono tanto per per i film animati di animazione ma quello mi è piaciuto tanto quindi vi preparate guardando qualcosa o documentandovi sui sogni in generale e poi vi mettete a letto e dovete cercare di non addormentarvi cioè di rimanere svegli c'è una fase prima dell'addormentamento che è la fase ipnagogica che praticamente è quella fase che attraversiamo anche quando magari ci stiamo addormentando in spiaggia oppure in autobus o in treno cominciano a chiudersi gli occhi la testa si piega e a un certo punto ci accorgiamo che stiamo sognando o che vediamo delle immagini delle immagini molto rapide una dietro l'altra che non sono proprio un sogno ecco lì dovremmo cercare di mantenere la lucidità di stare svegli nel senso di non cadere addormentati e non si deve nemmeno seguire tanto le immagini del sogno bisogna stare nel mezzo un ottimo metodo è quello di contare e contare funziona sempre contare proprio da uno a cento a duecento a quanto ci serve oppure contare dicendo uno sto sognando due sto sognando tre sto sognando perché poi quando stiamo sognando diciamo cavolo sto sognando davvero e poi bisogna ricordarci il discorso dell'emozione di gestire l'emozione quindi facendo un riassunto ci dobbiamo documentare molto sui sogni lucidi prendere un libro leggere queste tecniche anzi le trovate anche su internet queste tecniche non sono un segreto scrivete proprio tecniche sul sogno lucido e vi escono fuori queste tecniche che vi ho detto e anche molte altre la mild la wild eccetera seguite quello che dicono queste tecniche e non mollate mai non mollate mai perché se mollate ovviamente perdete perdete l'obiettivo insomma ci vuole costanza ci vuole costanza costanza e determinazione e ci vuole un intento un intento come questa notte faccio un sogno lucido oppure andare a letto e contare se poi non abbiamo voglia pazienza lasciamo perdere e ripartiamo però io vi assicuro che la costanza la costanza da sola premia premia quindi potete metterci una settimana potete metterci un mese due mesi tre mesi però prima o poi si riesce si riesce nel sogno lucido se volete farmi delle domande io vi rispondo volentieri qua io non vedo domande quindi vuol dire che mi state tutti ascoltando eh sì ok allora tiziana sì nei miei sogni c'era spesso un bambino o bambina sui 5-6 anni non so ancora adesso chi fosse ma erano sogni rivelatori allora questi bambini ti dicevano ti dicevano qualcosa perché se ci sono spesso questi bambini che ti dicono qualcosa cioè che sono sogni rivelatori vuol dire che questi bambini ti dicono qualcosa i bambini tiziana nei sogni quasi sempre siamo noi è il nostro bambino interiore che ci parla siamo noi stessi che ci richiamiamo all'ordine io sono qui guardami bene ricordati non lo so insomma ci sono molte cose importanti da rivedere nei bambini praticamente basta osservarli questi bambini e poi identificarci e fare si può fare tutto un lavoro con questi bambini si può prendere il diario e scrivere descrivere questi bambini provare ad immedesimarsi io ero così posso entrare dentro questa bambina sentirmi come se fossi io questa bambina c'è tutto un lavoro dietro e non so se voi guardate qualche volta le dirette di Mauro Scardovelli lui lavora molto in questo senso con il bambino interiore alla fine diciamoci la verità tutti gli irrisolti che noi possiamo avere nella vita sono riconducibili all'infanzia tutti quasi tutti è lì che si forma è lì che c'è l'impronta di quello che saremo di quello che siamo oggi o di quello che i nostri bambini saranno domani si chiama imprinting quindi sì se vogliamo risolvere qualcosa benvengano i bambini interiori che ci danno sogni rivelatori Roberta bravissima ha un diario e scrive lunghe trame dei suoi sogni bravissima sì sì è proprio come è la cosa più utile più utile da fare per noi siamo abbiamo nei sogni con i sogni abbiamo il nostro psicologo personale siamo noi non lo paghiamo e lui è lì per noi e possiamo risolvere un sacco di cose un sacco di cose non c'è niente di meglio di di uno psicologo personale che siamo noi i sogni li facciamo noi abbiamo accesso attraverso i sogni noi di cui non sappiamo niente abbiamo accesso a talenti che non sapevamo di avere abbiamo accesso a blocchi da sciogliere che non sapevamo che c'erano però ci tornano in mente attraverso i sogni i sogni sono una ricchezza enorme enorme che siano normali lucidi premonitori rivelatori messaggi eccetera sono sempre lì per il nostro bene Simone io vorrei dialogare con una persona defunta a me cara che se n'è andata solo due settimane fa ho trovato il suo corpo avrei delle domande da farle l'ho sognata almeno sette volte in questi giorni episodi brevissimi in cui ero consapevole che era morta e la stavo sognando ma poi mi svegliavo appena realizzavo allora io ti consiglio la cosa migliore da fare programma di sognare questa persona parla con questa persona come se fosse lì con te ed effettivamente è così siamo tutti collegati parla con questa persona poni le tue domande a questa persona esprimi il desiderio di vederla e di incontrarla fai questo finché non trovi le risposte o finché non arriva la persona e ti dà queste risposte facendo questo tenendo la mente focalizzata su questa persona defunta tu mandi energia e utilizzi mantieni la tua energia sulla frequenza di questo desiderio e questo desiderio prima o dopo verrà esaudito questo funziona anche nella realtà più pensiamo ad una cosa sia in positivo che in negativo perché non esiste la negazione per l'inconscio questa cosa accade quindi sì quello che io ti posso consigliare è se non hai un diario dei sogni prendi un quaderno dialoga con questa persona ma cose anche molto semplici chi era cosa faceva mi piaceva tanto quando facevi così mi è dispiaciuto quando hai fatto questo stavi meglio con i capelli corti piuttosto che lunghi parla con questa persona inventati magari anche le risposte però apri un dialogo apri un canale con questa persona e vedrai che questa persona poi arriva e ti dà delle risposte chiedi anche magari di mantenere un dialogo un po' più a lungo se quello che hai sognato tu sono solo brevi episodi o frammenti di sogno e lo puoi fare e lo puoi fare alessandra adesso vedo tutti i messaggi quando sogniamo di andare nel mondo dell'oltre e vediamo il nostro corpo inerme cosa significa e perché sogniamo questo tipo di sogno alessandra oi boh qua allora bisogna vedere questo tipo di sogno com'è forse dovresti scrivermi in privato perché non capisco bene com'è questa cosa o tu esci dal corpo ma saresti consapevole allora è un'esperienza extracorporea oppure se sogni di farlo questo si succede è normale ma non è altrettanto normale in un sogno vedere anche il corpo noi possiamo uscire dal corpo ma non uscire dal corpo nel sogno nel senso succede molto spesso che in un sogno vediamo le cose dall'alto o vediamo le cose da lontano questo è normale ma vedere il proprio corpo in un sogno ti dico la verità non mi è mai capitato e quindi o questa è un'esperienza extracorporea ma di solito ci si accorge cioè non è può può succedere perché tutti noi attraversiamo chissà quante dimensioni quando chiudiamo gli occhi la notte e non sono solo i sogni quindi può darsi che ci sia una percezione di qualche uscita extracorporale non lo so dovresti descrivere meglio Alessandra se vuoi puoi scrivermi nel gruppo oppure in privato o qui sotto anche dopo io rileggo i messaggi Simone la cosa secondo lei in un sogno lucido è possibile incontrare una persona defunta o è solo un costrutto mentale nel caso avrebbe un consiglio per aiutarmi a proseguire il sogno nella mia consapevolezza allora nel sogno lucido sì è possibile incontrare una persona defunta non è solo mentale il sogno lucido è mentale perché è costituito dal materiale del nostro inconscio ma il nostro inconscio è direttamente collegato anche all'inconscio collettivo nell'inconscio collettivo ci stanno tutte le altre anime viventi o meno quindi noi abbiamo sì accesso a tutti gli altri canali il nostro inconscio quando è necessario e quando è il caso insomma può attingere agli inconsci delle altre persone quindi il mentale con altri mentali se vogliamo vederlo così è sempre come il discorso che ho fatto prima non si può descrivere scientificamente questa cosa ma c'è effettivamente un contatto con tutti gli esseri anche con gli animali se arriviamo a un livello di illuminazione abbastanza elevato possiamo renderci conto che veramente non c'è una separazione che siamo uno siamo una grande coscienza una grande consapevolezza un nucleo se vogliamo siamo dio tutti quanti pezzettini siamo tutti parte del divino quindi sì è possibile Simone ci scrivi i titoli dell'autore giun certo sì poi valerie grazie mauro scardovelli sì è un grande mauro scardovelli allora elga elga noemi buonasera Daniela io faccio due tipi di sogni ricorrenti sogno di lavarmi in doccia o di fare bagni al mare sempre immersa in acqua pulita fresca oppure sogno sempre di avere relazioni diverse e li ricordo tutti sempre ho smesso di scriverli perché le dinamiche in entrambi i casi si ripetono sempre allora quando i sogni si ripetono sempre vuol dire che c'è un messaggio da interpretare vuol dire che c'è un messaggio da interpretare quindi questi sogni se li hai già scritti e hai già una lista lunga e sono sempre gli stessi e parlano sempre dello stesso argomento dovresti interpretarli sì perché allora lì c'è qualcosa non so adesso da quanto tempo va avanti questa cosa però quando facciamo dei sogni ricorrenti sempre lo stesso c'è qualcosa che bussa alla porta e chiede di entrare o uscire o meglio uscire quindi sì io potrei dire fare la doccia è come lavare via qualcosa io non lo so se c'è qualcosa che dovresti lavare via o se significa altro perché poi c'è anche il bagno al mare e poi questa cosa delle relazioni forse vanno insieme le due cose c'è qualcosa di qualche relazione da lavare via io questo questo non lo so però ripeto puoi scrivermi anche in privato che che magari è una cosa personale o possiamo indagare meglio adesso qui io leggo i messaggi solo adesso quindi è un po' difficile però sì sono sono disponibile ecco Simone prego lo stesso vale per tutti Alessandra va bene Gabriella Graziella ho sognato mia nonna defunta che la cercavo poi l'ho trovata e mi ha detto se tu vuoi parlare con me affacciate la finestra e parliamo bene bellissimo 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 Monica Daniela potresti ecco tornare indietro e leggere anche il mio commento vediamo un attimo allora Monica mi dispiace ma io parlo e poi li perdo Monica ok eccola qua allora io ricordo che in un sogno stavo cercando dei soldi nel mio borsellino sapevo di averli ma non li trovavo ad un certo punto mi sono imposta di trovarli e li ho visualizzati proprio nel borsellino era giorno ed ero all'aperto in una piazza sotto degli alberi ero serena allora Monica i soldi i soldi sono energia i soldi sono energia perché per avere soldi dobbiamo lavorare e quindi dobbiamo mettere dell'energia è un po' coltivare e poi raccogliere i frutti si può dire che i frutti siano i soldi i soldi che abbiamo preso per quello per il lavoro il borsellino è il contenitore della tua energia quindi tu o cerchi energia che avevi buttato via qui non lo so qui bisogna bisogna vedere bene ti sei imposta di trovarli può voler dire due cose può voler dire che che hai deciso di utilizzare questa energia anche se non c'era oppure che effettivamente pensavi di non avere di non avere energia per fare qualcosa invece ce l'avevi bisogna vedere questa energia dove la metti l'energia si può mettere nei pensieri si può mettere in un progetto si può mettere in un discorso in tante cose quindi se eri serena molto probabilmente era molto positivo pensavi di non avere energia di non avere la forza e invece ti sei accorta che ce l'hai che ce l'hai ecco adesso torniamo giù si è fatto tardi scusate si è fatto tardi e mi sa che devo chiudere e che ci vediamo alla prossima fra 15 giorni vi ringrazio tanto io vi leggo poi i messaggi che mi scrivete sotto e poi vi rispondo chi mi ha in amicizia mi scriva pure anche in privato che io vi rispondo ecco vi ringrazio tantissimo e ci vediamo fra due mercoledì ok un bacione a tutti grazie mille e a presto a presto a presto a presto